sapevate che il film l'evocazione the conjuring 2013 è tratto da una storia vera infatti i due protagonisti e dellorraine warren sono realmente esistiti e sono considerati i due investigatori paranormali più famosi di sempre ma facciamo un passo indietro edward warren miney nasce a bridgeport connecticut il 7 settembre 1926 ed è conosciuto in tutto il mondo per essere stato un demonologo e un investigatore del paranormale già durante la sua infanzia viene a contatto con eventi paranormali infatti dai 5 ai 12 anni ed vive in una casa da lui considerata infestata nel corso di varie interviste ha raccontato che una sera mentre tutta la sua famiglia stava dormendo sentì la porta dell'armadio aprirsi all'interno vide il viso di una vecchia signora che scomparì poi improvvisamente mio padre che era un ufficiale di polizia diceva spesso ed c'è una ragione logica per tutto ciò che accade in questa casa ma lui non mi ha mai fornito una ragione logica per ciò che accadeva lorraine rita moran nasce il 31 gennaio 1927 nello stesso paesino di ed anche lei è stata considerata un'investigatrice del paranormale una sensitiva e una chiaroveggente da ragazza ha frequentato una scuola cattolica per sole ragazze a milford i due cacciatori di fantasmi e demoni si conoscono all'età di 16 anni al teatro de colonial dove lui lavorava come maschera allo scoppio della seconda guerra mondiale ed si arruola e durante il periodo di congedo i due decidono di sposarsi nel 1946 nasce la loro prima e unica figlia judy warren la coppia inizia fin da subito ad appassionarsi al mondo dell'occulto e la loro attività di ricercatori inizia grazie alla passione di ed per la pittura infatti i coniugi decidono di viaggiare per tutto il new hampshire e il new england in cerca di eventi paranormali e per guadagnarsi da vivere dipingono case infestate ogni volta che ed veniva a conoscenza di un luogo dove si pensava ci fossero spiriti si posizionava al di fuori della casa in questione e la dipingeva successivamente lorraine bussava alla porta dicendo mio marito ama disegnare e dipingere case infestate e ha fatto questo per voi grazie a questo ingegnoso metodo avevano la possibilità di conoscere i proprietari e parlare con loro della casa e dei suoi misteri durante queste visite lorraine scopre i suoi poteri da sensitiva e medium chiaroveggente diventano quindi dei veri e propri demonologi e il loro lavoro si basa sul cercare e studiare tutte quelle che sono le credenze relative alle creature conosciute come demoni non si definiscono però occultisti perché secondo loro la religione e la fede sono l'unica maniera possibile per contrastare queste entità maligne ed e lorraine warren erano infatti persone molto religiose cattolici praticanti i due sostenevano che la mancanza di fede potesse lasciare aperto un barco alle forze demoniache nel corso della loro lunga carriera furono interpellati numerose volte dalle autorità religiose per controllare e confermare alcuni dei più potenti focolai di fenomeni diabolici nel paese ed warren inoltre si guadagnò il titolo di unico demonologo non clericale riconosciuto dallo stesso vaticano nel 1952 ed e lorraine warren fondano l'associazione chiamata the new england society for psychic research nspr l'obiettivo di questa società era quello di indagare i fenomeni paranormali usando sia la religione sia la scienza il gruppo di esperti che li aiutava era formato non solo da medium e chiaroveggenti ma anche da scienziati medici ricercatori poliziotti e infermieri il loro metodo consisteva nel coinvolgere vari sensitivi portandoli separatamente in un luogo che si diceva essere infestato senza però dirgli nulla di quello che avrebbero potuto trovare se tutte le testimonianze dei medium riportavano la percezione della stessa medesima entità maligna allora capivano che erano sulla strada giusta per risolvere il mistero di quel luogo le documentazioni ottenute dai coniugi warren con questa modalità erano talmente precise ed esaustive che furono anche usate per vincere alcune cause legali infatti ed warren una volta disse abbiamo dimostrato in un tribunale nel 1989 che una donna e il suo giovane figlio sono stati cacciati di casa dai fantasmi vivevano ad ebron nel connecticut siamo andati in un tribunale di rockville e abbiamo vinto il caso la gente immobiliare che gli ha affittato la casa fu citato in giudizio per 2000 dollari ci venne chiesto di andare nella casa per avere qualche prova che avrebbe dimostrato che in realtà c'erano fantasmi ora non puoi entrare in un tribunale e dire bene giudice lì ci sono i fantasmi bisogna avere le prove in qualsiasi tribunale si usano fotografie registrazioni e testimoni credibili come prova ed è ciò che abbiamo usato abbiamo vinto il caso e fissato un precedente qui negli stati uniti oltre ad aver fondato l'associazione chiamata the new england society for psychic research ed e lorraine hanno anche creato uno strano ed inquietante museo chiamato museo dell'occulto il museo dei warren gestito da lorraine e dal genero tony spera era situato dietro la casa degli omonimi proprietari ed è stato il museo più antico e unico nel suo genere al suo interno si potevano ammirare manufatti e oggetti provenienti da diverse parti del mondo legati a storie di demoni e fantasmi e utensili utilizzati durante attività occulte uno tra gli oggetti più inquietanti che si potevano incontrare durante una visita al museo dell'occulto sicuramente era la famosa bambola annabelle considerata la responsabile di diverse morti di persone venute in contatto con lei non solo al cinema ma anche purtroppo nella realtà oltre a questo il museo ospitava diversi oggetti particolari come maschere utilizzate per proiezioni diaboliche lapidi di tombe di bambini utilizzate come altari nelle messe nere un idolo satanico ritrovato in un bosco del connecticut un celebre organo che suonava da solo la bambola shadow capace di entrare nei sogni e uccidere nel sonno una bara utilizzata da un cosiddetto vampiro moderno giocattoli posseduti e anche cimeli voodoo il museo è stato chiuso nel 2017 per violazione della zonizzazione perché il luogo dove era situato non era idoneo ad ospitare un museo visto che si trovava in un quartiere residenziale e molti dei vicini si erano lamentati tony spera ha pubblicato un messaggio sul sito web della new england society of psychic research sottolineando che il museo dell'occulto è chiuso a causa delle normative sulla zonizzazione stiamo cercando una nuova sede per il museo una vita da film horror durante la loro prolifica carriera ed e lorraine hanno indagato su più di diecimila casi e molti di essi sono stati documentati in libri come ghost hunters true stories from the world s most famous demonologists nel 1989 e were a wolf a true story of demonic possession nel 1991 scritti dai warren insieme a e gorman inoltre alcuni dei loro casi più inquietanti sono stati resi celebri da numerosi film horror di grandissimo successo come appunto l'evocazione the conjuring the conjuring 2 il caso anfield il messaggero the hunting in connecticut la saga di annabelle e the noon nel 2021 è uscito l'ultimo film dell'universo conjuring chiamato the conjuring per ordine del diavolo l'evocazione the conjuring il film diretto da james van considerato uno dei più grandi registi horror degli ultimi tempi è basato su eventi realmente accaduti alla famiglia per ron che si trasferì in una casa infestata a risville nel road island in quella stessa casa un secolo prima bezzabea sherman fu accusata di stregoneria nell'abitazione oltre a bezzabea viveva un bambino che però morì misteriosamente quando fu fatta l'autopsia fu stabilito che la morte era stata causata da un grosso ago da cucire impalato alla base del cranio la comunità iniziò a sospettare che bezzabea fosse una strega e che durante un rito satanico abbia sacrificato il bambino come offerta al diavolo questa tesi non fu però mai confermata per insufficienza di prove la famiglia per ron quindi inizia a rendersi conto di strane apparizioni e fenomeni particolari che avvengono nella loro nuova casa come porte che si aprivano e chiudevano da sole oggetti che sparivano e si muovevano autonomamente a questo punto decidono di chiedere aiuto ai warren interpretati nella pellicola da vera farmiga e patrick wilson per esorcizzare l'abitazione e la signora per ron posseduta dallo spirito della strega maligna vista la tematica così controversa e misteriosa è normale che il lavoro di edellorraine abbia attirato a sé numerose critiche e scetticismi tra i diffidenti più accaniti si annovera la new england skeptical society in particolare perry de angelis e steven novella che hanno studiato molti casi indagati dalla coppia di investigatori definendoli privi di fondamento e al limite dell'invenzione nonostante le numerose critiche anche di chi pensava che marito e moglie si approfittassero dei problemi di gente onesta si dice che edellorraine non chiedessero soldi per le loro consulenze ma solo il rimborso delle spese di viaggio io credo nella scienza noi abbiamo scienziati che lavorano con noi e credo sia teologicamente che scientificamente ci sono organizzazioni di atei i cosiddetti ricercatori scettici che dicono non vi è alcuna prova scientifica che dio esiste che esistono gli spiriti o che accadono miracoli è ridicolo ci sono tutti i tipi di prova nel nostro museo dell'occulto abbiamo centinaia di oggetti abbiamo migliaia di casi che dimostrano senza ombra di dubbio che il sovrannaturale esiste abbiamo ripreso la dama bianca di easton abbiamo ripreso poltergeist attacchi alle persone fantasmi e abbiamo ripreso molte immagini di fantasmi lavoriamo con qualsiasi clero la cui religione insegna l'amore di dio e l'amore per il prossimo tuo non siamo così stupidi da pensare che visto che siamo cattolici siamo l'unica vera religione lavoriamo con tutte le persone di tutte le fedi abbiamo migliaia di immagini di fantasmi e non sto parlando di materiale tipo ectoplasmi vaporosi sto parlando di spiriti che sono chiari come me e te tu ci chiedi le prove noi ti daremo quelle prove gli scienziati avrebbero detto voi non avete dimostrato una cosa perché non prendete quel fantasma e lo mettete in una bottiglia così lo possiamo aprire ed esaminarlo questo è stupido stanno dicendo che devi scientificamente dimostrare che dio esiste che esistono i fantasmi non esiste una cosa del genere non si può ottenere una prova scientifica in un mondo sovrannaturale quindi se siamo in grado di dimostrare in un tribunale di diritto che i fantasmi esistono ed esistono case infestate penso sia una prova più che sufficiente ed warren morì il 23 agosto 2006 a causa di un arresto cardiaco la moglie decise così di ritirarsi dal lavoro sul campo e di rimanere solo come consulente per il nspr e morì all'età di 92 anni il 18 aprile 2019 ad oggi è tony spera il marito della loro figlia judy ad essere a capo dell'associazione il quale ha lavorato accanto alla coppia per oltre 30 anni non ho paura della morte so che andrò in un posto bellissimo un posto così spettacolare che sfida le parole